I funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Salerno in collaborazione con l'Ufficio Antifrode e Controlli della Direzione Territoriale Campania e Calabria hanno sequestrato rifiuti in partenza dal porto di Salerno e destinati in Burkina Faso. I rifiuti sono stati rinvenuti in un container sottoposto a verifica, che presentava un carico di merce stivato alla rinfusa, in quantità superiore alla merce indicata nelle dichiarazioni doganali, oltre ad altra merce non dichiarata. Durante le fasi del controllo è stata trovata un'autovettura nella quale risultavano occultati numerosi TV Color non dichiarati. Inoltre, nel corso delle operazioni di controllo sono stati individuati pneumatici di autocarro in uno stato di usura avanzato, indumenti usati sfusi e non igienizzati, frigoriferi, biciclette, parti di autoveicoli, batterie e pezzi di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo, quali ammortizzatori e semiassi di autocarro. Per violazione alle norme in materia ambientale si è proceduto al sequestro penale del contenitore.